Salve a tutti oggi siamo da Cerno in provincia di Salerno ai confini con la provincia di Avellino siamo sui Monti Vicentini oggi però non vi porto su nessuna vetta ma andremo a scoprire una grande sorgente o forse piccola non lo so ancora la devo vedere quindi percorreremo tre sentieri kai fino a raggiungerla e voi venite con me non continuiamo per il sentiero kai 109 signoravenda rom a campagna ma andiamo verso sinistra dove il sentiero kai 109 signoravenda rom a campagna ma andiamo verso sinistra dove c'è il sentiero incroceremo il 167 a siamo arrivati all'oasi naturale del monte polveracchio ovviamente se volete risparmiarvi questi quattro chilometro e mezzo potete anche arrivare fino a qui con l'auto all'oasi del monte polveracchio e da qui intraprendete il sentiero 167 b adesso ripercorriamo il percorso al contrario io in descrizione comunque vi lascio la traccia gpx da seguire perché il sentiero è poco segnalato ma vi dico che l'ultimo tratto per arrivare dove sono arrivato io proprio alla cascata dovete scendere in picchiata quindi è molto complicato veramente questa mattina siamo partiti dal 109 dal 109 abbiamo seguito il sentiero kai 109 fino al cancello di sinicola al cancello di sinicola poi siamo venuti verso l'oasi nel monte polveracchio dove abbiamo andato preso il 167 b fino a quando abbiamo intravisto la cascata e siamo giunti alla conclusione come sempre in viaggio con il cast e l'usi operativi 24h se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale youtube e oggi tra cascate fiumi alberi boschi funghi abbiamo trovato di tutta roccia tutto quello che ci poteva offrire la natura di meglio non potevamo chiedere anche fra poco sta arrivando anche la pioggia ci vediamo alla prossima andiamo